Il corso Negoziare efficacemente offre una formazione cruciale per sviluppare competenze fondamentali nella gestione dei conflitti e nella costruzione di relazioni sinergiche in azienda. Tra i suoi punti di forza vi sono l'enfasi sulla consapevolezza dei processi di collaborazione, il miglioramento del lavoro di squadra e la capacità di definire obiettivi comuni. Il corso fornisce strumenti pratici per rafforzare la comunicazione e la negoziazione, elementi chiave per trovare soluzioni condivise ed efficaci, favorendo così una cultura aziendale orientata al raggiungimento dei risultati attraverso il dialogo e la cooperazione. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate, oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.